Ciao a tutti, sono Luigi Buglione, presidente dell'Associazione Italiana per i Function Point e le metriche del software, Gufpi Isma. Siamo oggi 20 ottobre ospiti del Comune di Salerno e del Sindaco, il dottor Vincenzo Napoli, per parlare di come stimare quei programmi che troviamo normalmente nei telefonini, nelle nostre apparecchiature domestiche e che qualche azienda chiaramente produce. Per produrle serve misurare per stimare di quante persone, di quanti mezzi, di quanti asset dover disporre. Quindi misurare serve per conoscere un'attività che facciamo normalmente nella vita quotidiana e un pochettino meno nelle attività lavorative. Oggi parleremo quindi di gestione del valore, quindi anche gli aspetti qualitativi, non solamente gli aspetti dimensionali. Faremo una tavola rotonda nella quale parleremo con i vari professionisti del settore per cercare di capire come poter sviluppare al meglio questi programmi in modo più efficace ed efficiente anche per domani. E parleremo anche di app, app per telefonino. Ci saranno tre presentazioni in particolare, proprio perché diventano sempre più pervasive nella vita di tutti i giorni. Se volete saperne di più, anche le presentazioni, parte anche questo video, saranno caricati sul nostro sito associativo fra qualche giorno. L'indirizzo oggi è www.gulfp-ismac.org.